Cimone, come è andata la partita? È stata molto dura, però ci abbiamo fatto ribaltare il risultato, però abbiamo perso per un gol. Ma mi dicevano che l'arbitro non è stato tanto bravo. No, oggi è stato bravo, con fronte di altri giorni che mi hai spulso. Ma ti spulso? Sì, vedo che è una bella compagnia qui. Eh sì, oggi è una bella partita. Abbiamo preso i saliti golden di Feda, come si erano così male. Ma Rossano vi dà un aiuto, oppure guarda solo le ragazze? No, no, in questa fase il mio compito è un compito di osservatore e di organizzatore. Quindi devo solo fare i complimenti a tutti questi ragazzi. Benissimo, grazie a tutti. Ciao ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Un attimo le squadre che non ho capito bene i nomi delle squadre. Allora, le squadre? Noi siamo gli FC Caparossoli. Caparossoli, ok. Mi confermi Caparossoli? Caparossoli. E invece l'altra squadra? Come? FC On Tour. On Tour. E com'è andata questa sera? Eh, è andata benissimo, anche se dobbiamo ancora giocare. Ah, quindi siete già pronti e preparati? Sì, sì, abbiamo già vittorio in mano. Mi raccomando. Non esagerare. Sapete che c'è l'antidoping, mi raccomando. Sì, è sottio, è sottio, è sottio, è sottio. Sto i ragazzi particolarmente, diciamo, attivi e determinati mi sembra. Ma diciamo finalmente arrivati alla finale così non li vedrò più Andrea. È finita questa gara, no? Sono tutti bravi, sono di ottimi ragazzi. Perfetto. Ciao ragazzi, ciao. Ciao ragazzi. Inizierà la formazione dell'Onturia con maglia granata. Questo è proprio il calcio d'inizio. Maglia granata, calzoncini, bianchi, completamente opposto. È il campionato. La casacca della formazione. È una serata proprio movimentatissima, proprio piena di ragazzi, piena di partite, calcio a 5, è tutto pubblico. Cosa succede questa sera qui? E non ci sono i politici. Per fortuna. Volutamente. No, è una festa, naturalmente è una battuta Andrea. È una festa di ragazzi Andrea. Quindi non vogliamo, quando ci sono queste occasioni qua, vogliamo proprio che ci siano solo loro, i genitori fuori dal campo, i mister fuori dal campo. È proprio un evento solo per i ragazzi. Ma quindi questa sera cosa c'è? Una finale? È una finale del quindicesimo torneo estivo giovanile di calcio a 5, città di Chioggia. E' 15 anni che facciamo questa importante manifestazione, una manifestazione proprio naturale, cioè una manifestazione che viene proprio dal basso. Ci sono i ragazzi, si auto-organizzano le squadre, giocano e giocano, insomma, e si divertono. Insomma, abbiamo fatto un sabato sportivo al 100% con voi. Oggi siamo andati a vedere la partita, la seconda uscita stagionale della Claudiense e stasera ci sono i ragazzi. Perfetto, ok, grazie Rossano. Grazie Andrea, sempre molto cortese, ciao. Grazie a te.